Per contrastare il consumo di alcol tra giovanissimi, le consulte femminile e giovani hanno organizzato un incontro pubblico all'Istituto Avogadro di Torino, nell'ambito del progetto Anti-Alcolismo Giovanile. Durante l'evento, cui hanno partecipato studenti della fascia d'età 13-15 anni, provenienti anche da scuole medie torinesi, è stato proiettato un cortometraggio sul tema realizzato dagli studenti.